La campagna elettorale è terminata, ma le criticità che affliggono l'Abruzzo rimangono aperte e urgenti. Il nuovo governo regionale guidato da rieletto Marco Marsilio è chiamato ad affrontare diverse sfide cruciali. Lo ha detto Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito Democratico d'Abruzzo. Innanzitutto c'è la questione sanità in bilico, con la situazione delle liste d'attesa drammatica e l'autonomia differenziata prospettata dal disegno di legge Calderoli che potrebbe aggravare l'iniquità dell'assistenza sanitaria. C'è il diritto allo studio negato, con oltre 3.300 studenti universitari che attendono in vano l'erogazione delle borse di studio, promessa da Marsilio in campagna elettorale come imminente. La vitivinicoltura in ginocchio, i rimborsi per i danni causati dalla peronospora, sono bloccati in attesa di una circolare ministeriale fantasma. La città di Pescara è in declino, le piscine le naiedi restano chiuse da quattro mesi, il caos regna su Viale Marconi e i semafori T-Red con 377 attività commerciali che hanno chiuso nel 2023. Per il segretario regionale del Partito Democratico adesso servono fatti, basta con gli slogan. Il tempo delle promesse è finito, l'Abruzzo ha bisogno di soluzioni concrete di un governo capace di affrontare le sfide con serietà e competenza. Marinelli lancia così un appello all'azione. Il centrodestra deve dimostrare di avere le capacità per guidare la regione Abruzzo verso un futuro migliore. La retorica e i palliativi non bastano più. L'Abruzzo, secondo Marinelli, esige risposte concrete ed immediate.